Sono Maurizio Radi, titolare di Fisioradi Medical Center e ormai da diversi anni collaboro con Rossini TV. Abbiamo iniziato questa collaborazione con degli spot pubblicitari, poi negli anni siamo andati avanti anche creando dei programmi mirati sulla salute. Anche quest'anno abbiamo fatto questa programmazione per diversi mesi con obiettivo salute check up sul canale 80 e sappiamo che abbiamo avuto un bellissimo riscontro e tutto questo grazie a tutti gli operatori di Rossini TV che hanno dimostrato una grande professionalità e disponibilità nei nostri confronti. E quindi vi ringraziamo dell'opportunità che ci avete dato per poter poi esporre il nostro centro a livello territoriale e su tutta la provincia di Pesaro Urbino. Fisioradi Medical Center, l'eccellenza per la salute a Pesaro.